Per l'assistente segreto mi ha detto che quest'oggi faremo un salto nel futuro e proveremo a vedere, boh, non lo so, ha detto cos'è strana Ok, è bello Ha detto di andare a parlare con questo Carlos, che infatti c'è scritto From the Future, sono un po' preoccupato, nel senso che il futuro può essere pericoloso Ma no, Stef, secondo me è sempre bello, perché nel futuro ovviamente ci saranno tante tecnologie avanzate Sì, ma guarda un documento misterioso, cioè a me non sembra roba molto sicura Beh, adesso non le capisci perché ancora non sappiamo tutte le cose che dobbiamo sapere, Stef, è normale Dimmi che non sembra un messaggio degli alieni No No? No È bello, a me piacciono, di persone che stanno a scrivere con la scrittura del futuro Come si chiude, Fere? Cosa? Come si chiude? Con S Ok Questo non saprebbe sopravvivere neanche nella pre-storia, vuole venire qua nel futuro, guarda Tu lo dico io da parte di Carlos, guarda, mi metto qua Non sei capace, vattene via, vai via del mio futuro perché non sai manco chiudere un documento Ok, con questa voce proprio, quindi Carlos ha questa voce Ciao Stef il Magnifico e benvenuti nel futuro, ciao Carlos, grazie mille Qui nel futuro abbiamo molte nuove tecnologie da farvi scoprire, è un metodo futuristico che permette di immagag... Immagazz... Legga lei, mi sono sentito criticato fino all'inizio di questo video e non ho sopportato la pressione, ok? Sì, immagazzinare i mostri in modo da poterli evocare e combattere a proprio piacimento Oggi testerete le nostre armi e la nostra tecnologia Per prima cosa andate verso la grande chest futuristica, prendete l'equipaggiamento e tornate quando avete finito, ok? Quindi questa è quella più grande, quindi suppongo di sì Ok, ah c'erano anche delle belle bistecche Ah, bello! Ok, io mi metto tutto Aspetta, no, stavo premendo altre cose Uno, due, tre, quattro Come sono Stef? Sono bellissima! Insomma Ho sempre la faccia buggata, non mi si vedono mai gli occhi Io ho un problema con gli occhi Ciao Fer Bellissimo Stef! Io sono figo, tu no Mega ultra, non distruggiamo il mondo! Andiamo da Carlos Finita? Allora, siamo equipaggiati, sei pronto Stef? Sì, leggo io o leggi tu? Non lo so, come vuoi? Un po' più di enfasi se devi leggere, altrimenti leggo io Ah, bello te che non sei leggere in italiano L'empo di Immaggatinare, è un casino! Maga Visto? Oh! Perché mi stai Oh! Raga, è finita, è finita Devo tirare qualcosa in testa Umiliata 100% Perfetto! Inizieremo facendovi testare i nostri archi Gli archi laser Archi laser? Sono i più deboli tra le nostre armi Allora perché stiamo provando gli archi? Ma sono utili per imparare a pieno le armi laser? Ok Noi Allora Sappiamo già usare Io lo voglio usare l'arco Ok Io sì che lo voglio usare Allora, allora, allora Vediamo un pochettino Equipaggiamo l'arco Mi toggo sto documento Ok Stef, non lo devi provare su di me Non rompe Porca miseria Quanto è cattivo Smettila Allora, lo proviamo su... Questo? Questo? Stef, ha rotto il mondo di nuovo No, secondo me siamo in peaceful Sì, infatti Hai rotto il mondo di nuovo No, tutto a posto Tutto a posto Guarda Ciao Prova Oh, stai calmo, eh Sparalo Ok Non è che faccio proprio tanto danno Ma neanche io, eh Infatti, vabbè, l'ha detto che sono le più deboli E così via Però, boh Perché faccio un'esplosione Però, sai, non è troppo efficace su di lui No, certo È molto forte, quindi Poi non ho ben capito dove si colpisce No, ma poi scusa Dove era la tecnologia per evocare i mostri? Cioè, li evochiamo come nel mondo normale? Non l'ho capito Cioè Forse questo Carlos non è proprio Eh, lo so Capito Cioè, nel futuro c'è la tua con la testa Eh, infatti Vabbè, finiamo, finiamo questo E speriamo che le prossime armi saranno più belle, Steph Un po' più Ma guarda che Scenografiche Cioè Vabbè, è vi Chi l'ha spostato? Non lo so Vabbè Ah Da solo, da solo Ma lo mandiamo a casa e noi continuiamo Dai No, dai, Steph Che poi rimane qui a rompere le scatole No, perché abbiamo allontanato Ma si è chiuso? Ciao Si è chiuso nella sua shulker, vero? Sì Oh, stai calmo, eh Maledetto Uè Dove è finito? Che stai a fa? Dov'è? Non lo so È qui sotto, Steph È buggato qui sotto Ah Risotto L'abbiamo sconfitto No, Steph Sta ancora Vabbè Vabbè, vabbè Il prossimo Volevo provare un attimo a raffrontare il Wither Skeleton Che secondo me con lui il fight è più entusiasmante Dammi una mano, però Necessito Caricata al massimo È devastante L'hai visto? No, stavo provando a colpirti da due ore Ma ti muovi Guarda Cioè se carico il colpo al massimo Lo sbalzo Ma perché non mi partono le frecce? Io c'ho qualche problema No, perché te le missi, cara Ah, ecco Vedi? Cioè se ti prendo Fermo? Ok, ok Ora capisco Congratulazioni Ora capisco Vabbè, la mira di frecce Conosciamo tutti Comunque Abbiamo usato gli archi Ora che avete usato gli archi Possiamo passare alle nostre spade laser E già va meglio Queste spade sono potenti E possiedono una forza maggiore Rispetto alla maggior parte Delle spade attuali Oh, è questo Siate cauti Sto parlando Sicuriamoci Ma usatele bene per uccidere le creature che evocherete Ok Ok Quindi qua Però aspetta che mi mangio una bistecchia Io voglio la rossa No Sì Vabbè Prima lo dice Prima se la prende, Steph Aspetta, Fere Eh Che cos'è un Enderman Creeper e un Enderman Skeleton? Eh, non so Comunque ci sono un po' di mostri strani qua, eh Quello è da dire Allora Parto con l'Enderman Creeper Ok, vai Steph, guardami Con la mia spada laser Sono prontissima Si ferma, sto dietro di te Scusa Vabbè, vai, Steph Ho capito che gli occhi ne la put Sono prontissima, eh Non ci vedo Mi copro la vista Vai C'è un limite Ok Ma è carino Non esplodere, non esplodere Steph, mi ha tolto quasi tutta la vita È fortissima Eh, sì, ma Vai con un altro, Steph Ma, scusa Dove fare qualche effetto questa spada, o no? È così? Non fa esplosioni? Così un po' triste? Non so, Fere Non ci ha detto nulla Uh Aspetta Eh Questa Perché? Ma Cosa succede? Ah E knockback Ok Ma non lo so Mi hanno anche ucciso Bene Cioè, a parte che sono fortissimi Eh sì Se ti pigliano sono proprio forti, eh Però Boh, è abbastanza Sì, ok Più potente Mi sembra un po' più potente E infatti fa 11 di attacco Ed è anche più veloce, forse Però, boh Mi aspettavo magari Giung, giung Che facesse tipo Quel che effetto strano A me Io adesso non vorrei essere un gastafeste Ma mi sembra che il futuro Faccia un po' schifo, Fere Non è tanto diverso Da quella cui Carlos, ma lei è sicura di arrivare dal futuro? Allora, leviamo tutte ste uova Ho provato a fare delle invenzioni Un po' improvvisate Del presente E le faccia un po' Vabbè, dai Allora, abbiamo usato le spade Vai, Steph E siamo molto delusi Ora passiamo Alla nostra prima arma Che stupisce chiunque la provi Beh, guarda Devi fare un lavorone nel caso Perché siamo molto scettici Il fucile laser Questo fucile istrutta l'energia del plasma Per concentrarlo in un fulmine Che farà pezzi di tutti i nemici Che colpirete Ora andate ad impararlo Ok Quindi qua Ok Allora Prendiamo le uova Prendiamo il fucile Allora Vediamo sta roba Il fucile è questo Non sembra molto cattivo Fere mi hai mirato? No Stavo provando a sparare a casaccio Perché non ti posso prendere? Cioè Ok Ahia Ok Mi ha fatto male Questo è il mio particolare Perca miseria Perca miseria Se ti uccido Stef Oh Schifoso Lurido Che non sei Dai non puoi Smettila Allora smetti di sparare Dai Che poi che sono sti mostri? Non lo so Alcuni penso siano molto giganti Stef Non lo so Cosa hai fatto Fere? Ho evocato i mostri Fere Non ho più il mio fucile L'ho perso Stef Fere Che vuoi? Perché hai fatto arrabbiare tu Ah l'ho ritrovato Eccolo qua Mi era caduto di mano Aspetta lì sparo E' tutto a posto Stef Tutto a posto Tutto a posto Posso sconfiggere tutti Con il nostro potentissimo fucile Sono dei golem slime Quando muoiono si sdoppiano Sì li ho visti Ci sono anche quelli piccolini E' molto Molto stressante sta roba Ok E mi ha fatto arrabbiare Non mi dovevi uccidere Non lo dovevi usare contro di me Ha detto contro i mob che evocherete Io non sono un mob Stef Ma guarda che mi hai ucciso tu per la prima volta Non è vero Io non ti ho mai ucciso Vatti a rimanere il video Sei un bugiardo Non ti ho mai ucciso Te la stai prendendo come quando io non ho mai neanche provato a spararti Ok Beh devo dire che poi sta spada però Quando devi picchiare gente del genere Almeno prende il suo senso E visto che ci sono Riutilizzo anche un po' l'arco va Chi mi ha fatto esplodere? Dai Stef Stavo uccidendo questo E sei in mezzo E che devo fa? Smettila Il mio arco non ha limiti Prende tutto quello che c'è intorno Io l'odio Sei odioso Dai Ti togli Togliti tu Togliti Il futuro fa schifo con Stef Ogni cosa fa schifo con Stef Sarebbe stato bello se fossi qui da sola Pensa di lui Mi raccomando Consolini Se pensate che anche voi il futuro faccia schifo Scrivetevi nei commenti Futuro schifo Con l'hashtag come sempre E iscrivetevi al canale Camparellina e così via Oppure futuro bello nel caso che vi piacciono queste fantastiche armi Ma chi è che piacciono? A me Smettila Ti piacciono? Non mi piace esplodere Mi piace sparare Sono due cose molto diverse Stef Molto differenti Quindi c'erano gli zombie spider Però gli zombie spider io non mi sono goduti Perché tu poi hai messo quei golem che hanno fatto un casino Quindi volevo Brutti cavolo Proprio brutti eh Proprio brutti E poi veloce Velocissimo Ciao Sono pazzi Calmo Vabbè Che miseria Ok Quindi andiamo di nuovo a parlare con lui Vediamo un pochettino Fucili laser provati Infine proverete la nostra arma più forte E distruttiva in assoluto Usate quest'arma solo a distanza E state attenti Se sbagliate rischiate di far saltare tutto in aria A fare non prenderla Allontanatevi da qui E cercate di non fare disastri Fere non prenderla E un lanciagrante Fere non prenderla Contreremo il 2 Fere non prenderla In tutti i tipi di granate di Fere non prenderla Che troverete nelle ceste E potrete sfruttare l'energia Perché è un'esplosione senza precedenti Fere non prendere questa arma Perché non posso aprire la ceste? Ecco ora posso Spostati Stef Fere Spostati Ci siamo presi a metà i colpi Non è vero Sì Non è vero Sì Non è vero Sì Non hai tutti i colpi tu Sì che ce li ho tutti Eh già Io no però Eh come è il ricarico secondo te? Ok abbiamo anche nuovi mob da evocare Volevo uccidere Carlos Però non ce l'ho fatta Sono esplosa io Sai com'è? Il futuro non mi piace Mi sembra giusto Ascolti vado a uccidere sto cavolo di Wither Andiamo a ucciderlo Stef Vieni Stef Vieni Stef Non mi sembra così forte Dici Allora Vediamo Ho sparato Dove sono i nuovi mob che ci ha dato? Quali sono? Eh ce ne sono Ce ne sono Questo Sembra bellissimo Sei pronto? Che ti è successo? Eh sono esploso Sì sono pronto Guarda Dove sei? Qui Ok Perché non posso evocarlo? Ecco ora si Lo squid gust Dimmi che non è bellissimo Oh mio dio Ok no Questa arma è fortissima Anche perché c'ha un hit bellissimo Guarda il disastro che sto facendo L'ho ucciso Ok È bella eh Sì Non era male Allora Io ho quasi finito i colpi granata Mi sono avuto fatto esplodere Ok Stiamo facendo un disastro assurdo Quali colpi? Ok sto passando ai plasma Ma io non ho il plasma Io ho gli slime granade Te l'ho detto Mi hai rubato i colpi per sbaglio Quali? Eh Ne hai alcuni che io non ho Hai il blaze granade? No Allora dividiamo Aspetta Tu non hai i plasma Aspetta Aspetta E i granade normali È quello che cercavo di dirti io da due ore Però non mi ascolti Ascolta Tieni Prova tutto Non ho voglia di dividere Eh ma aspetta Io il blaze l'ho provato Quindi al massimo ridammi Qualche slime Che lo voglio provare Ok I granade normali Te li do Ma come dico io all'arma? Che tipo di colpo devo usare? Allora adesso sto usando Il plasma credo Sì il plasma Ok No Io sto usando i granade I blaze Penso che forse Quello che metti vicino Carica No sta ridendo di plasma Ah no Sì 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 Tu in pratica Guarda Ho capito Steph Sì ma il più vicino che ti metti Il più vicino che hai Alla lanciagrenate Ti utilizza Al plasma Scusami Scusami Carlos Allora questo era il grenade normale Guarda Carlos Tu merita Allora Sì Allora io voglio provare Gli slime Che non ho capito che fanno Gli slime non ho capito bene neanche io Scusa un attimo Lancia slime Ma che fa? Non mi sembra neanche Faccia troppo danno Quindi Andiamo il plasma Contro il palazzo Posso? Ma che serve? Non lo so Non l'ho capito lo slime Però gli altri sono carine Sono belline Boh per festeggiare Steph Vero? Il fatto è che ci siamo liberati Di Carlos Steph Scusami Ho finto i colpi di slime Ma io stavo sparando gli slime Stavo festeggiando E tu mi hai sparato Mi hai sparato Cara Stai calma Alle spalle Con cattive Calma Calma Sei stato molto cattivo e crudele Perché io non ero preparata Stavo festeggiando E lanciando slime Steph Sei un maledetto Io devo partire per la way Con solini Prima che per essi arrabbi del tutto Non sono arrabbi Qua sotto troverete altri video Mi raccomando Iscrivetevi al canale E cliccate la campanellina Se volete vedervi al 100% Tutti i nostri video Perché intanto YouTube Non li fa vedere tutti Cliccate i video che ci sono qua sotto Se volete vedere qualche altro video Qualche giochino Qualche altra cosetta E mi fermo così Scappando da fare Che è in pazita Ciao Steph Vai vai